Usciamo di nuovo un istante dal discorso Torino ma continuiamo a parlare invece del discorso Toro perché parliamo del Torino FD, quindi parliamo di Toro più che mai quando parliamo di questi ragazzi abbiamo già detto in passato come questa bellissima realtà unica per come è nata in Italia abbia bisogno di sponsor perché pur essendo affiliata al Torino FC pur essendo appunto nata in collaborazione con il Torino FC che ha fornito lo stemma e qualche maglia un po' di attrezzatura ha delle difficoltà economiche e il sogno rischia davvero di non continuare se non arriva qualche sponsor, è abbastanza incredibile che finora non ne siano arrivati in quantità per una realtà così bella e oltretutto anche vincente, quindi uno sponsor che volesse legarsi al Torino FD si legherebbe, avrebbe sicuramente un guadagno, un ritorno d'immagine immediato almeno questo è quello che crediamo noi tutti sono invitati adesso a diventare fan del Torino FD ma diventarlo non solo a parole senz'altro andandoli a vedere al campo perché meritano le loro partite, sono belle e vincono quasi sempre tra l'altro diventare fan però in maniera fattiva, ossia con delle donazioni come fare? Allora c'è proprio un modulo che si può scaricare per diventare fan, tutto disponibile sul sito www.torinofd.it oppure è possibile donare il proprio 5 per 1000, tant'è una cosa che si deve fare comunque e quindi donare il proprio 5 per 1000 a Torino FD, associazione sportiva di lettantistica Onlus vedete in sovraimpressione tutti i dati per farlo, il codice fiscale da indicare in ogni caso potete trovare tutto o su Toro News o sul sito ufficiale del Torino FD quindi aiutate il Torino FD a continuare questo sogno ed è un appello questo che viene rivolto a tutti i tifosi del Toro che credono davvero insomma che parlano del Toro, di cos'è davvero il Toro, di cosa vuol dire indossare il Granata ecco perché abbiamo già detto questi sono i giocatori che sanno che cosa vuol dire indossare il Granata non gli altri, questi ed è un appello rivolto anche ad Urbano Cairo e al Torino FC Valerio non so se tu sei a conoscenza di questa iniziativa no, non lo sapevi, onorevole Merlo lei sapeva invece che ci fosse il Torino for Disable che è appunto la squadra per i disabili del Toro ed è un'iniziativa che merita molto positiva che merita assoluto sostegno, quindi tutti invitati a fare qualcosa, è davvero importante dobbiamo andare in pubblicità se non l'ho capito male? sì, andiamo in pubblicità e ci vediamo grazie a tutti